Buongiorno, come vedete sono al parco, saluta Letizia, sono al parco con mia figlia, anzi con i miei tre figli che in questa settimana non hanno la scuola perché è festa di Halloween e la nostra scuola, che è una scuola internazionale, ha chiuso. Ebbene, in questo parco che vedete è pressoché deserto, poco fa una padrona che aveva il cane ma non lo aveva al guinzaglio e lo ha lasciato praticamente incustodito, un cane è saltato addosso a mia figlia piccola di due anni e mezzo, di soli due anni e mezzo. Vi sembra logico, vi sembra corretto che nei parchi, peraltro parchi giochi, sappiamo che il periodo è anche difficile per noi mamme, per chi ha figli piccoli, un parco giochi con lo scivolo, vedete, e altalene, insomma, che comunque in questo periodo dovrebbe essere dei nostri bambini, venga preso d'assalto dai cani, cani che peraltro non sono, perché causa padroni maleducati, non sono tenuti al guinzaglio, o a bada e saltano addosso ai bambini? Ma vi sembra logico? Vi sembra normale? Non lo so, fate un po' voi. Vi lascio questo quesito della giornata. Chissà, la pensate come me? Facciamo qualcosa. Grazie. Grazie. Grazie.